Io sono Matteo Bianchi, sono docente per Skillab su tematiche di organizzazione e logistica. Oggi abbiamo una bellissima aula con 14 persone e ben 10 aziende diverse e abbiamo sostanzialmente introdotto una serie di concetti base questa mattina legati all'organizzazione e nel pomeriggio andremo più in profondità su aspetti legati al mondo logistico, quindi gestione dei magazzini, gestione delle scorte, processi di picking, di spedizione, logistica distributiva e cercheremo di dibattere, di introdurre concetti e di fare anche qualche esercizio. Il corso La Funzione Logistica in Azienda quindi mira ad approfondire tutti quelli che sono gli aspetti logistici sia di logistica interna che di logistica distributiva. La logistica è quella funzione che dagli anni 80 nasce per integrare prevalentemente le funzioni acquisti e produzioni e per aiutarle a lavorare in maniera più efficiente e ha un diretto impatto comunque per quello che riguarda la logistica produttiva anche sul servizio al cliente. Di conseguenza è di importanza sempre maggiore e sempre crescente ottimizzare la gestione della propria funzione logistica e per estendere il concetto anche della propria supply chain.